E' arrivato per quanto riguarda il Comune di Terre Roveresche l'esito dei primi 135 test sierologici. Sono 135 le persone asintomatiche che si sono sottoposte infatti al test finanziato dal Comune e organizzato con la Fondazione Articolo 32. Il 20% di queste, pari a 27 persone, ha sviluppato anticorpi al Covid-19. In 12 soggetti sono state riscontrate immunoglobuline di classe IgM che compaiono in genere nei primi 10 giorni di avvenuto contatto con il virus. In 13 sono stati individuati immunoglobuline di classe IgG che si producono dopo un maggior tempo dal contatto. In 2 erano presenti entrambe mentre 108 persone sono risultate negative. Il sindaco, Antonio Sebastianelli, fa sapere che le persone con IgM, come stabilisce anche una delibera della Giunta regionale sulle modalità operative del test, sono state sottoposte a doppio tampone per la ricerca del virus e fino ad oggi sono tutte risultate negative. Terre Roveresche è il primo Comune delle Marche ad essere partito con i test sierologici utilizzando il metodo quantitativo per cui è necessario un prelievo ematico in vena. A Montegrimano Terme invece si è optato per il metodo rapido che si effettua con una goccia di sangue presa dal polpastrello. Al momento il test è effettuato su base volontaria ai medici di medicina generale, carabinieri, agenti di polizia municipale ed altri dipendenti comunali oltre a farmacisti e personale che opera all'interno delle case di riposo, i volontari della protezione civile e chi lavora nelle attività di commercio al dettaglio che sono sempre rimaste aperte. Nelle prossime settimane si proseguirà coinvolgendo anche i titolari delle attività che sono in procinto di riaprire. Per il sindaco il test e il conseguente studio permetteranno di capire come il virus è circolato all'interno della comunità, un dato importantissimo per programmare le azioni presenti e future. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!